Buongiorno, siamo qui ad accogliervi a Modena Antiquaria, una celeberrima mostra piena di capolavori. Quest'anno veramente c'è stato un upgrade della mostra con opere veramente di altissima qualità. Io sono Raffaello Lucchese della Matta Antichità di Verolengo e abbiamo costruito in un anno questo stand che abbiamo cercato di portare le cose più belle che siamo riusciti a scovare in quest'anno. Tra le opere più preziose sicuramente c'è quest'opera che è il ritratto di Carlo Emanuele III di Savoia in maestà a figura intera. Si conoscono pochissime opere in maestà di Carlo Emanuele III, una molto simile a questa è conservata dalla Fondazione Accorsi e altre due opere sono una al Museo Civico di Torino e l'altra a Moncalieri.